Stai ascoltando un podcast Rizzoli Education Vite per l'arte, protagonisti dell'arte del Novecento tra Europa e Stati Uniti, di Valerio Terraroli Cindy Sherman, il self-portrait come mezzo per indagare la realtà e la storia Cindy Sherman è un'artista contemporanea che ci racconta del grado di coinvolgerci in un mondo di immagini che Cindy Sherman riesce a sintetizzare utilizzando, come molte artiste del Novecento e della nostra contemporaneità utilizzando il suo volto, il suo corpo, trasformandolo è una metamorfica Cindy Sherman, una donna di grande intelligenza, di capacità creativa che sfrutta con astuzia e con capacità le icone dell'immaginario collettivo contemporaneo ha iniziato la sua attività di artista ricostruendo, usando quindi se stessa ricostruendo alcuni topics di pellicole cinematografiche famosissime cioè usando dei fotogrammi di alcuni film che hanno segnato la storia del cinema degli anni 50, 60, 70 e che quindi sono, come dire, depositati inevitabilmente nella memoria di tutti noi o se non lo sono comunque nel vederle le rievochiamo e Cindy Sherman ricostruisce queste situazioni di allestimento cinematografico quindi negli stessi luoghi dove il film è stato registrato con gli stessi abiti, gli stessi costumi, gli stessi atteggiamenti delle attrici che lo stavano, lo hanno impersonato ma creando in queste fotografie, in queste istastane studiate a tavolino con grande intelligenza delle piccole varianti, delle piccole varianti degli atteggiamenti del volto degli sguardi, dei gesti che in realtà sono diverse dal fotogramma originale quindi da un lato richiama la memoria ciò che è diventato un'icona della memoria collettiva e dall'altra inserisce qualcosa di individuale di nuovo ma anche di misterioso e di ambiguo nell'immagine in realtà la sostanza delle scelte di Cindy Sherman è proprio quella di giocare sulla ambiguità dell'immagine è un tema che non è solo contemporaneo su questa ambiguità dell'immagine si ragiona da decenni basti pensare a questa non è una pipa di Magritte che è il titolo dell'opera è l'inganno delle immagini cioè noi vediamo qualcosa che riconosciamo ma che non possiamo usare per quello che è quindi la dichiarazione questa non è una pipa davanti a una pipa rappresentata ci mette immediatamente in una contraddizione cognitiva e allora Cindy Sherman fa la stessa operazione ti faccio vedere un'immagine di un film famosissimo con un'attrice famosissima ma faccio qualcosa che ti mette in discussione che ti fa pensare quindi l'arte è pensata come uno strumento per obbligarti a un ragionamento che vuol dire un ragionamento su se stessi questa operazione Cindy Sherman la porta anche rispetto alla storia dell'arte ed è curioso per noi pensare come mai un artista, una performer, una fotografa così di questa capacità sente la necessità di ricostruire opere del passato per esempio la visitazione di Pontormo piuttosto che una madonna del latte della tradizione cinquecentesca perché lei ricostruisce nell'atelier un set fotografico in cui si veste esattamente con tessuti degli stessi colori del dipinto di partenza stessa posizione, stesse modalità però trasforma il suo volto in qualcosa che è quasi deforme cioè che non rispetta i canoni non solo dell'oggetto pittorico originario ma neanche della bellezza contemporanea quindi mette in discussione un'icona del passato con dei canoni di bellezza che sono i rotocalchi, la televisione, il cinema ci mettono davanti agli occhi e lei li mette in contraddizione quindi questa sua metamorfosi questo suo continuo cambiamento questo suo travestimento ma badate bene non è un travestimento scherzoso non è un travestimento così puramente di gioco è un travestimento che è necessario all'artista per impersonare un determinato figura un personaggio ma nel quale mette qualcosa che non funziona e che ci infastidisce anche che ci crea qualche difficoltà non a caso tra le ultime opere che Sindiciamo ha realizzato sono delle fotografie in cui lei è vestita da uomo e in persona personaggi maschili ma dove evidentemente la sua femminilità in qualche modo ovviamente emerge e mette diciamo in nostri occhi la nostra mente in difficoltà per comprendere che cosa ci sta raccontando e che cosa significa e diciamo che Sindic Sherban occupa uno spazio oggi nell'arte contemporanea molto significativo proprio nell'ambito di quella espressione artistica che non è più la body art soltanto che usa come medium la fotografia o la macchina da presa quindi diciamo nessun altro mezzo che non questi mezzi che lei utilizza come per fissare dei tableaux vivants delle operazioni di allestimento per ricostruire delle scene pittoriche, cinematografiche e quant'altro e condivide diciamo queste sue trasformazioni queste sue metamorfosi con un artista che si chiama Orlan che è un artista francese che invece ha perseguito l'idea della propria metamorfosi e della propria trasformazione attraverso qualcosa di molto più cruento Sindic Sherban usa tutti i trucchi del cinema e del teatro nelle proprie trasformazioni e poi ritrova Sindic Sherban naturalmente Orlan invece ha preferito scegliere una strada più determinata e se volete irreversibile che è quella di usare il suo corpo come uno strumento in trasformazione quindi si è fatta applicare chirurgicamente delle protesi che l'hanno trasformata via via nel tempo lei ha documentato le operazioni chirurgiche e poi gli esiti successivi adesso usa per esempio i linguaggi digitali in cui lei ha degli avatar che si trasformano nel video ed esercitano delle azioni lei non è più Orlan originaria è qualcosa d'altro è un essere antropomorfo in cui si mescolano le forme femminili le forme umane diciamo con qualcosa di biologicamente trasformato è la donna del futuro? è l'essere del futuro? può essere in ogni caso sia lei cioè Orlan con queste trasformazioni fisiche sia Sindic Sherban che lo fa nel mondo virtuale sono delle testimoni della capacità del mondo femminile nell'ambito appunto dell'arte contemporanea del mondo creativo di raccontare il mondo che li circonda nei lati negativi e diciamo nelle contraddizioni che fanno emergere con grande forza in particolare Sindic Sherman ha anche un aspetto molto importante che condivide con altre artiste come lei come Nan Golding che è una grande fotografa come Sindic Sherman come Mona Atum che è un artista che realizza delle installazioni come altre artiste sudamericane cioè tutte donne impegnate in ambito politico ovvero persone che hanno usano la loro fama quando la raggiungono ma soprattutto la loro capacità di fissare in immagini in opere in performance in quant'altro una posizione ideale etica e fortemente politica non solo rispetto come dire all'emancipazione delle donne e al ruolo del mondo femminile nel mondo contemporaneo ma problemi che riguardano tutti gli esseri umani uomini e donne compresi cioè che sono le libertà individuali che sono il diritto alla vita che sono il diritto alla come dire ad accedere ai mezzi diciamo di comunicazione al diritto di non avere fame di non morire per le guerre e bisogna dire onestamente che sono più le donne artiste che si impegnano nell'ambito politico che non gli uomini e quindi ancora una volta nel nostro mondo contemporaneo almeno su questo lato alle artiste dobbiamo moltissimo seguici su rizzolieducation.it per ascoltare le prossime puntate di Vite per l'arte protagonisti dell'arte del novecento tra Europa e Stati Uniti di Valerio Terraroli Hai ascoltato un podcast Rizzoli Education per l'arte del novecento per l'arte del novecento Grazie per l'arte del novecento